E bello a tutti mozzarelloni, io sono Cipo e questo nuovissimo video ragazzi Nuovissimo video del mondo dove Cipo incredibilmente dopo miliardi di settimane Eccomi qua ragazzi, non so che titolo avrò messo a questo video ma in ogni caso oggi vi andrò a spiegare qualche cosina Premetto subito che non è che non avrei mai pensato di fare questo video però avrei preferito non farlo Perché appunto... ora vi spiego Intanto comunque ragazzi lasciate like e mi raccomando C'è pure scritto sul cappellino, se lo dice lui Io lo farei Comunque ragazzi da notare, felpa tattica, troppo bella, mi piace troppo solo che si è staccato il bottone qui Non si attacca più quindi mi dà un po' fastidio Ma a parte questa ragazzi, non perdiamoci in cacchiere Bando alle ciance, ciance alle bande Mi fotto tua Comunque ragazzi allora, devo riprendere un po' la parlantina perché da un po' che non registro e devo riabituarmi Allora ragazzi, ragazzi, ragazzi Facciami seri Allora ragazzi, minchia basta Perché sì, ragazzi Mi state facendo notare che io dico troppe volte Allora ragazzi Quindi, allora ragazzi Basta dire allora È più forte di me Voglio fare il serio Quindi 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 Cosa Perché mi chiamano? Io voglio fare il serio e mi chiamano Pronto? 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 Perché? Attaccato? Sì Sì Di me Sì Ok Va bene Va bene Ok va bene, sì Ciao ciao Allora 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 Facciamo i seri Senza interruzioni Speriamo Quindi Cosa sta succedendo al canale? Beh Parto col dire che Io sono su youtube Da tipo Giugno 2014 Tre anni Insomma Ne sono passate Di acque sotto i ponti Tutto quanto Sono successe Miriade di cose sul tubo Da quando mi sono Aperto il canale Che tra l'altro Piccola parentesi Io sono su youtube In totale Cioè Il mio primo canale Dal 2010 Quindi ragazzi È veramente Un fottio di tempo Che io faccio cose su youtube Tantissimo tempo Comunque appunto ragazzi Vi stavo dicendo Sono da tanto su youtube Ho visto tante cose E soprattutto Ho fatto anche tanti video Mi sono Come dire Impegnato tantissimo Ma impegnato Tra virgolette Perché comunque Quando io faccio i video Ragazzi Li faccio perché C'ho voglia E tutto quanto Cioè Non potete capire Quante volte Mi è successo Non so Di fare un video A un certo punto Mi è passata la voglia Comunque Ho capito che quel video Stava andando in una direzione Sbagliata Che magari Non era proprio divertente Con tutto qualcosa Comunque Appunto Molte volte È successo che Ho interrotto Non ho fatto più nulla Perché non mi stavo divertendo io E sono sicuro Che neanche voi E comunque insomma Il concetto è questo Se il video mi piace Io mi diverto E penso che voi Vi divertiate Io il video lo faccio Se penso l'incontrario Non lo faccio Molto easy E quindi ragazzi Cosa sta succedendo In queste settimane Mi sono accorto che Diciamo che la passione La sto sempre più perdendo Non so ragazzi Non mi va proprio Di fare video Ma È una cosa stranissima Perché Dentro di me Sento la voglia Di farli video Perché comunque È una cosa che mi piace fare È una mia passione E boh Sono felice Che qualcuno guardi video E questo può provocare in me Cioè molta Come dire Vedere che faccio felice La gente Che Non so La gente si diverta A vedere i miei video Che li aspetta Non so Mi Mi rende felice E mi fa passare Anche delle giornate migliori Infatti quando non faccio i video Molto spesso Non so Le passo sicuramente peggio Le giornate Quindi diciamo che Sotto questo punto di vista Mi viene molta voglia Di fare video Ma sotto un altro punto di vista Che non so veramente Come spiegare Proprio non mi viene voglia Di registrare Cioè io Quando sono a scuola Non ho da fare nulla Molte volte Prendo il diario Mi metto Non so A pensare a qualcosa da fare Di divertente Cioè dammi appunto Qualche cosa E appunto dico Vabbè Arrivo a casa Registro quella cosa Che è molto figa E boh Ci sta Arrivo a casa E non faccio niente Ovviamente Perché Boh Valla a spiegare Cioè Purtroppo Queste cose Non si possono spiegare Perché deve venire Tutto da dentro Come giusto che sia Cioè Quando una cosa La tratti come una passione Non come una cosa Seria Come un lavoro Lavoretto Allora lì appunto Interviene La passione Il cuore Non lo so Un po' come quando Stai giocando a un gioco Ti diverti tantissimo Ma Che ci vuoi fare Dopo un po' Perdi come dire La voglia di giocare Non ci giochi Perché appunto Quella è una passione Un divertimento E non un lavoro E quindi Boh ragazzi Chiudo tutto questo capitolo Tutto questo ambaradam Per dirvi che appunto Queste assenze Cioè Le giustifico Col fatto che Sto perdendo la voglia Di fare video E così Accrudo Sto perdendo la voglia Di fare video Questo non vuol dire Che chiudo il canale Ragazzi Assolutamente Cioè Io i video Li faccio comunque Cioè Li faccio Ma purtroppo Boh Non vorrei darvi False speranze Magari dicendo Che farò quel video Farò quell'altro Ritornerò Blah 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 Che tra l'altro Io non è che Non me ne sono Non me ne sono mai andato Ci sono sempre stato E solo che Non facendo video È come se non ci fossi stato Bordello di cose Ragazzi Perché mi conoscete Io Se voglio fare una cosa La voglio fare bene Il più originale possibile E oltre ai vlog Di originale Veramente Non Non ho proprio niente Di mente Che poi i vlog Originali Un parolone Però io cerco Di renderli Il più originali Possibili Facendo non lo so A modo mio Ecco Perché appunto La cosa che appunto Rende diversa Un vlog Da un'altra Appunto è Lo spirito Come affronti La cosa che stai facendo Non so Il tuo punto di vista E appunto Spero che il mio punto di vista Il mio vlog Sia molto Non so Diverso Originale Divertente Non so Vi piacciono i miei vlog Quindi penso che Un pochettino Sì E quindi ragazzi Questo è il concetto Che avevo da dirvi Boh Spero che Boh Ehm Non lo so Non dico che mi perdoniate Perché alla fine Boh io non devo essere costretto A far nulla Però comunque che Riusciate a capirmi Scrivetemelo nei commenti Con anche qualche domanda Che a me fa sempre piacere rispondere A proposito di domande Andiamo nell'ultimo Monde with Cipo Che vorrei vedere Un po' le domande in sospeso Mi L'ultimo Monde with Cipo È stato come sono andati Gli esami dell'11 settembre Wow Michia Sono passati quasi due mesi Sa Allora 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 Prima domanda Prima domanda Ce la fa il caro Formatolandia Che ci scrive Monde with Cipo Dopo che hai detto Che preferisci giocare con console Ho perso tutta la stima Nei tuoi confronti Ma la domanda di Formatolandia Non può mai mancare Quindi c'è un modo Comunicare con te Esempio TS Discordo Discordo O Skype Penso che tu stia scherzando Ovviamente Col fatto che hai perso La stima nei miei confronti Perché gioco con console In ogni caso Vabbè anche se non scherzi Ma in generale Io ho conosciuto delle persone Che veramente Disprezzano a morte Chi gioca con console Ma Vorrei estremamente Arriba a dire una cosa Non so se l'ho detto Nell'altro video Ma in ogni caso Ragazzi L'importante È giocare Io Parlo da giocatore Adesso di console Ma ex giocatore Di PC Perché veramente Io giocavo al PC Molto tempo fa Cioè più o meno Uno o due anni fa Non tantissimo Comunque appunto Cioè sono stato Un ex giocatore Da PC E ho affrontato Tutte e due le situazioni Ragazzi Ragazzi L'importante È divertirsi Alla fine Io mi divertivo Con il PC Ora mi diverto Con la console E penso che sia la stessa cosa Poi il fatto che Con uno spendi di meno Con l'altro spendi di più Sono cose relative Alla fine Una console L'importante è che ti diverta No? Comunque C'è un modo per comunicare Con te Sì In teoria sì Potete contattarmi Ovviamente Scrivendomi su Instagram O su Facebook Ovviamente Mi fa sempre piacere Non so Chattare con voi Ovviamente Ragazzi Capitemi se magari Non vi rispondo Alcune volte Non è perché magari Me la tiro O perché magari Mi arrivano altri messaggi Ma perché magari Capitemi O c'ho I cazzi a sbatti Che non c'ho voglia Di rispondervi Oppure magari Non so Per altri motivi In ogni caso Se non vi rispondo Su Instagram O su Facebook Tranquilli Non è che Me la tiro ragazzi Cioè No Assolutamente Cioè se me la tirassi Io Il mondo cadrebbe Veramente Comunque L'unica domanda Di oggi Era questa Ce n'era anche Un'altra domanda Ma penso che l'autore L'abbia rimossa Perché l'avevo vista Comunque ragazzi Se questo video vi è piaciuto Vi lasciate un bel Poi lasciate un commentone E tante bellissime cose Ragazzi Spero Non so Mi capiate Mi capite Mi capocchiate Noi ci vediamo Con un prossimo video Bye bye